Kezia è una donna veramente rispettabile e ciò che mi piace più di Kezia è che ha un buon cuore e dà a tutti quanti e una cosa che mi piace molto di Kezia è il fatto che mi lavora tanto per il lavoro di Dio e la vedi sempre nella casa del Signore e Richard è veramente fortunato per avere un amore e una bella e la vedi sempre nella casa del Signore Grazie a tutti! iscriviti al canale campanale ed è rimbolo Boli e uobiasi manousi Now Shorty e masi confess Dora d'autota milion You confess Pena matia She wudomi Tebi mi yumi Tecchè mi a mente I know don't tell no life Girl I don't lose I'm when you come by Yes I'm ready with a ring For your finger And I can't wait To walk to the altar Cause ever since you came Life won't be the same Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 Grazie